Coppia nella vita e nel malaffare, a Vittoria restati due estorsori che avevano preso di mira una famiglia chiedendo il risaccevento per molestie sessuali che non si sono mai verificate. Presentate ieri le liste definitive per le elezioni politiche 2018, inizia così ufficialmente la campagna naturale, diversi ragusani in lista, alla fine non sono mancate le esclusioni illustri e qualche sostese rispettata. A modica è in lotta alla Polizia Municipale delle affizioni selvagge, sanzionate diverse annoranze funebre e partite politici per affissione abusive di manifeste elettorali relativa alle scorse regionali. A due giorni dall'ingendio doloso che ha distrutto l'agenzia Viaggi a Ragusa, la titolare fa la conta dei danni e non nasconde lo sconfosto, per quanto accaduto l'appello delle assenzioni occorre fare subito qualcosa. I genitori degli alunni sensoriali della provincia di Ragusa chiedono intervento immediato dell'istituzione per ripristinare i servizi di assistenza scolastica e ai nostri microfoni l'appello di un genitore. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Canale 74, apriamo il TG di oggi con la notizia di cronaca che arriva da Vittoria dove sono state arrestate due, una coppia di Vittoria appunto che estorceva del denaro ad un imprenditore, in pratica la donna si era inventata delle molestie sessuali e avevano chiesto il risarcimento all'imprenditore per non denunciarlo, in realtà molestie sessuali non c'erano mai state, l'uomo poi non ha più resistito, anche se all'inizio qualche somma gliel'ha pure data, però alla fine poi non ce l'ha fatta ed ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato che ha arrestato i due. Una coppia nella vita come nel malaffare, quella composta dai vittoresi Roberto Lecci Cavallaro e Fortunata D'Agosta, rispettivamente di 48 e 35 anni, accusati di essorzione continuata. La donna aveva lavorato dalla vittima come imbracciante agricolo per poche settimane, carpendo la vulnerabilità di una famiglia e di onesti lavoratori. Così Fortunata D'Agosta, dopo aver appurato che il terreno fosse fertile, è scogitato con il compagno un modo per poter ricattare le vittime. La donna è inventata di aver ricevuto dalla vittima di essorzione delle richieste di favori sessuali e che se avesse accettato il titolare le avrebbe regalato settimanalmente dei soldi. Il compagno indignato e offeso per questo inventato avance si è presentato alla vittima chiedendo un pagamento settimanale a titolo di risarcimento. La vittima dapprima ha pagato, ma ha poi deciso di rivolgersi agli uomini della polizia di Stato, sostenendo di non aver mai fatto avanza la donna. Inoltre, il suo stato di indigenza non gli permetteva di pagare nulla in più di quanto già ingiustamente conferito. Alecci, forte del suo trascorso criminale, ha minacciato in ogni modo la vittima, riferendogli che se non avesse pagato avrebbe distrutto la sua azienda agricola dandogli fuoco, arrivando a minacciare di morte lui e i familiari. La vulnerabilità dell'intera famiglia ha permesso ai due indagati di ottenere le prime due dazioni di denaro. L'uomo aveva intimato il pagamento una volta a settimana, specificatamente ogni sabato. Avendo poi capito che le vittime erano terrorizzate dal pregiudicato, la coppia dei sorsori ha deciso di alzare la posta, chiedendo 1.500 euro al mese. Sabato sera, l'ultima trance consegnata così come la settimana prima, pertanto la vittima si è convinta ad avvisare la polizia di Stato che metteva in sicurezza la famiglia, riferendo che la prossima volta che la coppia si fosse presentata da loro, ad attendere ci sarebbero stati gli uomini del commissariato e della squadra mobile. Ieri la famiglia del titolare ha ricevuto la richiesta estorsiva, seguendo le indicazioni delinquenti, poiché sabato non aveva soddisfatto del tutto le loro istanze. Questa volta però ad attendere c'erano gli agenti di polizia e non appena la coppia entrava in possesso delle banconote è stata prontamente bloccata. Tutte le operazioni sono state videoregistrate e le banconote sono state dapprima fotocopiate dalla vittima, così da poter affermare con certezza che fossero proprio quelle consegnate alla coppia. I due indagati dovranno rispondere nel reato di estorsione continuata, poiché le azioni di denaro sono avvenute in più giorni e per ben tre volte. La procura della Repubblica di Ragusa ha disposto che Lecce nasse condotti in carcere per gli innumerevoli precedenti penati, peraltro specifici, e che la donna fosse condotta in casa agli arresti domiciliari in quanto incensurata. E adesso parliamo dell'ultimo sbarco che si è registrato ieri a Pozzallo dove sono approdati 329 migranti. La polizia ha individuato e fermato due scafisti. Sentiamo. Due giovani scafisti sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Ragusa perché ritenuti responsabili di aver condotto un'imbarcazione partita dalle coste libiche approdata ieri a Pozzallo con 329 migranti a bordo. Erano le 13.20 del 27 gennaio quando la nave militare spagnola Santa Maria è intervenuta nello specchio d'acqua dove era stato segnalato un barcone in legno carico di migranti in difficoltà. Le operazioni di soccorso sono iniziate circa un'ora dopo con il salvataggio dei 329 migranti di cui 197 uomini, 95 donne e 37 minori. La nave militare è poi condotta ai migranti verso il porto e dopo le operazioni sanitarie di rito sono stati trasferiti presso il locale Ottisport per le operazioni di pre-identificazione. Dall'indagine è emerso che i migranti sono partiti dalla Libia pagando in media circa 400 dollari a testa agli organizzatori che per non rischiare di far trarre in arresto loro connazionali offrono il viaggio gratis a chi senza alcuna esperienza si offre di condurre l'imbarcazione. Grazie alle testimonianze emerso che una volta giunti in acque internazionali il comandante ha effettuato una telefonata a mezzo dell'Italia alle autorità di soccorso. Il secondo uomo dell'equipaggio ha tentato di eludere le indagini offrendosi come testimone ed accusando solo l'egiziano ma nulla è vasto tentativo in quanto i poliziotti sono riusciti lo stesso ad appurare il suo coinvolgimento. Al termine delle indagini gli schiafisti sono stati sottoposti a fermo ed associati presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria eblea competente territorialmente. Nel 2018 tre sono stati gli schiafisti fermati in provincia di Ragusa. Lo scorso anno sono stati fermati invece 112 schiafisti dalla polizia giudiziaria. Nel 2018 presso l'Ottisport di Pozzallo hanno fatto ingresso a 705 migranti in occasione di tre approdi. Nel 2017 erano arrivati 11.278 migranti in occasione di 47 approdi. Nel 2016 erano arrivati 18.488 migranti in occasione di 56 approdi. E ora la pagina politica perché con la presentazione definitiva delle liste inizia ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018. Concentrandoci nella provincia di Ragusa sono tante le esclusioni illustri, sono tante anche le sorprese a partire in casa PD dove la capolista a Ragusa e la ministra Maria Elena Boschi facciamo il punto in questo servizio. presentate le liste inizia ufficialmente la campagna elettorale per le politiche 2018. Rispetto a quanto prospettato nei giorni scorsi vi sono alcune novità riguardo le candidature destinate a sollevare anche delle polemiche in seno ai maggiori partiti. Alla Camera ad esempio è saltata la candidatura di Cate Bruno mentre è spuntata quella di Valeria Zorzi, attuale assessore a vittoria in Fratelli d'Italia. La sorpresa maggiore arriva dal Movimento 5 Stelle con l'esclusione inaspettata di Salvatore Corallo dato come papabile fino all'ultimo. Unica ragusana in corsa per i pentastellati è Maria Lucia Lorefice che corre anche nel plurinominale. C'è poi Verena Padua per il PD e per Libero uguale Rosetta Noto. Per il plurinominale alla Camera l'unica eblea ad essere stata candidata è la giornalista della Sicilia Fran Cantosi che è anche capolista nella Sicilia sudorientale. Tanti commenti sono destinati alla scelta del Partito Democratico di candidare Maria Elena Boschi come capolista a Ragusa. Una scelta che non a tutte è piaciuta. Al quarto posto sempre per i DEM c'è poi il capogruppo PD a Palazzo dell'Aquila Mario D'Asta. In Forza Italia un ex ministro come Stefania Prestigiago guiderà la lista seguita a secondo posto da Giovanni Mauro che passa dal Senato alla Camera. Nino Minardo è stato invece candidato come capolista nel collegio Catania Cireale. Nella lista Potere al Popolo spunta anche il nome dello ciclitano Luigi Cicero. Ricordiamo che nel Rosatellum è prevista la soglia di sbarramento del 3% su base nazionale sia alla Camera che al Senato. In aggiunta però è prevista una soglia del 10% per la coalizione all'interno della quale almeno una lista deve aver ottenuto il 3%. Il Senato invece è eletto su base regionale. Anche le soglie dello sbarramento si calcoleranno sempre su base nazionale. Il Senato invece è eletto su base regionale anche se le soglie dello sbarramento si calcoleranno sempre su base nazionale. Nei collegi plurinominali formati cioè da più collegi uninominali le liste sono bloccate. Con il Rosatellum non è previsto più il voto di giunto. A proposito di elezioni c'è una denuncia che arriva dal sindacato Sinalp Sicilia che solleva la questione di incostituzionalità della nuova legge elettorale e chiede ai cittadini di contribuire alla raccolta delle firme. La direzione del Sinalp Sicilia invita tutti i cittadini affinché si possono raccogliere le firme per denunciare l'incostituzionalità e la truffa della legge elettorale del 3 novembre 2017 numero 165 che prevede e modifica il sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, delega il governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. Secondo la direzione del Sinalp Sicilia si tratta di una legge elettorale nata male e cresciuta peggio. Una legge incostituzionale perché altera il diritto dei cittadini di eleggere chi si vuole e chi si crede più rappresentativo. Non si può rinunciare dunque ad un diritto che è costituzionalmente garantito. Si sta attraversando un momento caratterizzato dall'assalto della diligenza da parte dei capi bastone che rappresentano alcuni partiti politici che sono oramai contenitori utili a garantire il ritorno in Parlamento. Questi personaggi pur di rientrare in Parlamento chiedono candidature in zone d'Italia che probabilmente non hanno mai visitato e conosciuto ma ritenute sicure da un punto di vista elettorale. Per limitare i margini di libertà di scelta del popolo hanno pure eliminato la scelta disgiunta tra un candidato dell'uninominale e una lista non collegata nella parte proporzionale. Questo significa che se un cittadino vuole votare soltanto il candidato dell'uninominale il suo voto va segnato anche alla lista collegata e viceversa. Dunque il popolo italiano non ha più la possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico. E in risposta alle sollecitazioni avanzate dall'opposizione di Scigli sulla bonifica della discarica di San Biagio e sulla fuoriuscita di percolato interviene oggi l'amministrazione comunale che precisa che il lavoro di messa in sicurezza della discarica sono terminati nello scorso mese di novembre. La Giunta Giannone annuncia anche l'affidamento della progettazione esecutiva per la chiusura definitiva della discarica e l'avvio della gestione post-mortem. E adesso ci spostiamo a Modica dove la Polizia Municipale ha effettuato diverse sanzioni per affissioni abusive. Le sanzioni sono state rivolte soprattutto ad agenzie di onoranze funerbi e a partiti politici per quanto riguarda le affissioni delle scorse regionali. Sentiamo. Dopo Ragusa anche a Modica sono stati intensificati i controlli della Polizia Municipale per il contrasto all'abusivismo relativo alle affissioni pubblicitarie. In questo senso la terza sezione della Polizia Locale ha operato numerose sanzioni contro le affissioni selvagge, sia quelle operate dall'agenzia di onoranze funebre che quelle elettorali. Il servizio di cui è responsabile il vice comandante della Polizia Locale Roberto More ha operato sul territorio numerosi controlli nell'arco dell'ultimo mese, che hanno consentito di individuare otto agenzie di onoranze funebre di aver affisso manifesti al lutto fuori dalle apposite bacheche e in qualche caso anche senza il latimbro dell'ufficio affissioni, che ne certifica la registrazione e il pagamento della relativa tassa. I manifesti abusivi accertati sono complessivamente 49. È responsabile stata combinata una sanzione amministrativa pari a 50 euro al manifesto. 80 sono i manifesti elettorali relativi ai candidati per l'elezione della Presidente della Regione per il rinnovo dell'Ars del 5 novembre 2017, che hanno stati affissi fuori dagli spazi assegnati e anche in quelli riservati ad altri candidati o partiti. Le sanzioni vanno da 103 a 1.032 euro per manifesto. Adesso ci spostiamo a Ragusa perché sono tanti gli attestati di solidarietà che arrivano sono indirizzate alla titolare dell'Agenzia Viaggi, data le fiamme domenica scorsa da un malvivente che prima aveva rubato all'interno dell'esercizio commerciale e poi non si sa per quale motivo ha incendiato il locale. Da più parti si chiede all'amministrazione di non sottovalutare più il degrado che si registra nel centro storico superiore di Ragusa. Ammontano a circa 30.000 euro i danni subiti dall'Agenzia Viaggi, data le fiamme domenica scorsa in via Roma-Ragusa. A due giorni da un gesto che rimane inspiegabile, la titolare dell'attività commerciale Irene di Raimondo, come riporta il quotidiano La Sicilia, si chiede se è il caso o meno di mantenere l'attività nel centro storico superiore, mentre la città si interroga sullo stato di degrado di quello che una volta era il fiero all'occhiello del capoluogo ibleo e oggi invece si ritrova in uno stato di abbandono. I numerosi attestati di stima al momento non sono bastati a tirare sul morale di Irene di Raimondo, che ha visto andare in fumo anni di sacrifici e duro lavoro. Non si capisce ancora perché il manvivente abbia deciso dopo aver commesso il furto di dare fuoco al locale, ma fatto sta che questo episodio rappresenta l'appunto dell'iceberg di un fenomeno purtroppo dilagante e denunciato ormai da tanto tempo da varie associazioni di categorie e partiti politici. All'Irene di Raimondo, come detto, sono arrivati tanti attestati di solidarietà sull'argomento e intervenuta anche la Confcommercio di Ragusa con il presidente Salve in Gallinera, che ha voluto sottolineare come il fatto più grave è che tutto ciò si sia verificato poco dopo l'alba, quindi a giorno ormai avviato nella centralissima via Roma. Si percepisce e sostiene in Gallinera un'assoluta spavalderia nei confronti delle forze dell'ordine da parte di chi si è reso protagonista di questo efferato atto, danneggiando in maniera pesante i locali che ospitano la struttura. Sarebbe questa la volta buona da parte dell'amministrazione comunale per convocare il tavolo sul centro storico, a cui molte volte in passato abbiamo partecipato, affrontando questioni che sono poi rimaste in sospeso. Inoltre, conclude il presidente dell'Ascom, per quanto riguarda l'ordine pubblico sarebbe anche il caso di comprendere una volta per tutte, sebbene nel recente passato se ne sia occupata anche una seduta della Commissione Affari Generali di Palazzo dell'Aquila, come, se e quando funziona il sistema di telesorveglianza nella zona cruciale della città. Vi proponiamo adesso l'intervista di un genitore e di un alunno sensoriale di Pozzallo. Questi genitori lamentano da tempo il taglio dei servizi in tutta la provincia di Ragusa per questi studenti. Per loro il diritto allo studio è negato, sentiamo il perché. Arrivano buone notizie, anche se solo parzialmente per gli alunni sensoriali di Pozzallo, che come quelli del resto della provincia di Ragusa, si sono visti tagliare i servizi di assistenza, in passato erogati dal libero consorzio e che oggi dovrebbero invece essere garantiti dai comuni che però non riescono a far fronte alle spese. La Pozzallo, come detto, si è registrata una piccola apertura da parte dell'ente, ma questo ancora non basta, come spiega anche il genitore di un alunno sensoriale. La difficoltà è il servizio che ci è stato, diciamo, sospeso, o meglio ci è stato dato a metà. In che senso? In pratica cerco di spiegare in poche parole. La provincia ha passato da poco tempo tutto il servizio di assistenza ai comuni di appartenenza. I comuni inaspettatamente hanno trovato questo disagio, i fondi che appunto vengono a mancare e non potevano garantire lo standard che questi bambini hanno bisogno come assistenza, parlo per mio figlio, per l'assistenza alla comunicazione. Come me, anche altre famiglie di bambini disabili hanno avuto questo disagio. La provincia ci ha garantito che non cambiava niente, invece non è stato così. Il primo disagio è tutto un leader burocratico che si è venuto a creare, infatti i bambini sono rimasti, diciamo, per più di un mese senza assistenza. Adesso i comuni sono partiti, il servizio è partito ieri per quanto riguarda il servizio scolastico, mentre il servizio pomeridiano le altre dieci ore sono state completamente eliminate. In ballo c'è diritto allo studio, sancito dalla Costituzione italiana, ma oggi per gli alunni ciechi e sordi della provincia di Ragusa il beneficio di tale diritto appare quasi impossibile. Per questo le richieste avanzate dai genitori alle istituzioni sono ben precise. Cosa chiedete alle istituzioni? Allora, le istituzioni chiediamo di, per quanto riguarda le leggi che sono state emanate da tanti anni fa, la provincia deve riprendere il servizio, deve dare assistenza continua come da rispetto di diritto a questi bambini disabili, che è sensoriale, sordi e ciechi. Sull'argomento, nei giorni scorsi era intervenuta anche l'Anfas di Modica, manifestando preoccupazione per il fatto che oggi le persone con disabilità sono diventate solo numeri a cui corrispondono ore di servizio moltiplicate per la tariffa oraria decisa dall'ente locale di turno. Più il risultato è basso, più si è soddisfatti. A Scigli sono entrati in servizio 37 lucchi, ovvero lavoratori di pubblica utilità. Si tratta di una misura finalizzata a dare sostegno a chi ne ha bisogno e garantire servizi alla comunità. Al comune di Scigli sono entrati in servizio 37 lucchi destinate ai lavori di pubblica utilità. Hanno già iniziato a lavorare nei giorni scorsi a sopporto delle scuole e degli uffici e servizi comunali. Tra questi, alcuni stanno garantendo l'apertura di Villa Penna dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 tutti i giorni, tranne il lunedì. A darne l'annuncio il vice sindaco con delega e servizi sociali Caterina Ricotti. La Giunta Giannone ha detto la vice sindaco intende proseguire nella politica di creazione di opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro, proprio a causa della loro situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa specificatamente finalizzata nell'ambito di un più complesso intervento di promozione volto al loro recupero e reinserimento sociale. Il fine quindi è quello di dare un sostegno a soggetti che sono in una condizione di disagio sociale, garantendo dei servizi a tutti i cittadini. Chiudiamo con lo sport, nello specifico con la scherma, con un'altra vittoria del campione modicano Giorgio Avola nella prova di Fioretto zona a sud, una prova nella quale hanno brillato anche altri altri eti della scherma modica. Ricco fine settimana di gara da Cireale, dove si sono svolte le prove di zona a sud di Fioretto maschile e femminile. In palio i pass per la prova nazionale di qualificazione agli assoluti 2018 e la serie C2 di zona per le squadre di spada. Nel Fioretto maschile una presenza d'eccezione, il campione modicano Giorgio Avola con i colori delle fiamme gialle, suo gruppo sportivo militare, costretto a passare alle qualificazioni zonali causa l'incidente di percorso nella prima prova di qualificazione nazionale, dove si fermò ai 32esimi e il non aver potuto disputare la seconda prova nazionale dello scorso anno per infortunio. Avola non ha deluso le attese, scendendo in pedana con una grande umiltà in una gara disputata l'ultima volta da Under 17, più di dieci anni fa, e è onorata la gara vincendola. Brillante anche la prestazione per la squadra della Conad Scherma Modica, di spada maschile, che ha disputato la serie C2 di zona sud. Il team, composto da Angelo Migliore, Giovanni Cartia, Manuel Puccia ed Emanuele Zaccaria, dopo il girone preliminare, ha affrontato e vinto il primo scontro diretto con Messina Scherma agli ottavi per 45-31. E ai quarti di finale si sono posti i cosentini di Platanie a Scherma, forti del primo posto nella tabellone di diretta. Incontro tiratissimo che si è concluso a fuori dei Modicani per 45-42. Altro bel successo in semifinale per 45-41 contro l'Accademia Olimpica Beneventana, che è valsa la finale e la matematica a promozione per la prossima stagione in serie C2. In finale sono stati poi superati per 24-45 dalla circolo Scherma Ionica. Prossimo weekend tornano in pedana gli Under-14 con la prova squadra della Trofeo Kinder Sport a Roma. Ben 7 i team della Conad Scherma Modica della categoria Ragazzi Allievi Maschili e Femminili e della categoria Maschietti Giovanissimi. Con questo è tutto, io vi rimando all'edizione serale delle 19.45 con Stefania Fiorila. e vi invito a seguirci anche nei nostri canali social, in particolare Facebook e Youtube. Vi ricordo anche che potete seguirci sul nostro sito www.canal74.it dove potete vedere anche i nostri singoli servizi. Da parte mia è tutto, arrivederci!